La perdita di Banca Tercas per il territorio terramano e abruzzese è stata devastante economicamente e moralmente umiliante. Parliamo di un istituto bancario autonomo, il più importante del centro-sud dell'Italia prima del suo commissariamento, acquisito poi dalla Popolare di Bari, oggi controllata dal Medio Credito Centrale. Dalle ceneri di questi due colossi bancari nascerà una grande banca del Mezzogiorno, decisione presa dal Governo con un decreto legge del 2019. E allora perché non recuperare in Abruzzo il marchio Tercas? Filiali dovunque e clientela fortemente fidelizzata rimetterebbero in moto il sistema economico e creditizio della Regione. È la battaglia che il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, vuole portare avanti, non solo come primo cittadino del capoluogo aprutino, dove la Tercas è nata, ma anche come presidente del lancio Abruzzo. Riprenderci il marchio Tercas, è veramente un grande progetto, anche far ritornare Teramo e l'Abruzzo protagonista. Sì, Teramo e l'Abruzzo devono essere il riferimento della nuova banca e questo è possibile solo e esclusivamente se si recupera il rapporto con il territorio. Una fidelizzazione che nonostante tutto, nonostante le improvvide chiusure di questi ultimi due anni, è rimasta. Quindi il messaggio che ho lanciato al presidente del DMCC Mattarella e al nuovo amministratore delegato della banca è proprio questo. Si sta costruendo il percorso della nuova banca, bisogna restituire a Teramo, all'Abruzzo, agli ex marchi Tercas e Caripe, quella dignità che comunque hanno sempre dimostrato e devo dire hanno anche dimostrato e rappresentato all'interno di Banca Popolare di Bari. Oggi si apre una nuova fase che non può essere più accentrata sulla Puglia, c'è una nuova banca e adesso costruiamola ripartendo dal territorio e quindi il recupero del marchio è il primo passaggio fondamentale per dimostrare intanto quanto tenga il governo attraverso MCC al rilancio della banca partendo dall'Abruzzo ma anche e soprattutto mantenendo questo rapporto col territorio che è fondamentale per la prospettiva futura in un momento in cui non può essere spogliato ancora di più di quanto sia stato il nostro territorio di presidi bancari e creditizi con le tante risorse che sono a disposizione sia pubbliche che private. Intanto i maggiori rappresentanti del mondo economico terramano, associazioni di categoria, confindustria e camera di commercio si schierano al fianco del sindaco d'Alberto per il recupero del marchio Tercas. Una battaglia che però va combattuta insieme, dicono, che non sia solo di facciata ma che possa supportare davvero le aziende che operano sul territorio.